L'accordo siglato dalle organizzazioni sindacali regionali e la cabina di regia del servizio sanitario regionale è certamente importante per superare l'annoso problema dei lavoratori con contratto COCOCO, ha dichiarato Marino Formichetti della UIL. Ma lo stesso purtroppo non si può dire, malgrado le ripetute solle licitazioni pervenute al dottor D'Amato, responsabile della cabina di regia, che non ha voluto inserire nell'accordo la riserva dei posti nelle misure del 50% per le forme di lavoro atipico come previsto dalla legge finanziaria. Per questa ragione CISL e UIL non hanno firmato un accordo capestro che nega definitivamente la possibilità di stabilizzazione al nostro personale interinale, che da anni consente l'effettivo funzionamento di interi reparti dell'ospedale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'asla di Rieti. Chiediamo, ha continuato Formichetti, la possibilità di concorsi dedicati che prevedano la riserva del 50% per il personale interinale e per gli infermieri l'immediato inquadramento come dipendenti a tempo determinato con l'utilizzo della graduatoria del concorso appena concluso. Per queste ragioni, su nostra richiesta, le segreterie regionali di CISL, CGL e UIL hanno chiesto un incontro urgentissimo alla cabina di regia del servizio sanitario regionale per discutere delle problematiche connesse al personale interinale.